Martina Iacampo, ad este hai conquistato il titolo di campionessa europea per la categoria slalom. Partiamo proprio dall'emozione di aver vinto una competizione internazionale. Sì, è stato bellissimo e anche l'esperienza in Ungheria della settimana scorsa è stata una grande esperienza. Sono stanchissima perché siamo tornati ieri sera e non sembra ma è lontano, insomma, sono state sei ore di viaggio travagliate. La gara è stata stupenda, è il percorso molto tecnico con vari punti guidati e l'accoglienza con l'Ornet Corse è stata fantastica e i piloti magnifici. Tutto è partito dallo slalom di Campobasso che quest'anno per l'appunto è stata proprio tappa del campionato CETS. Da lì potremmo dire è rinata la passione per te, si è riacceso il motore. Sì, ne abbiamo approfittato appunto perché facevamo anche noi parte di questa grande organizzazione che è quella del campionato europeo. Siamo molto contenti naturalmente di farne parte e speriamo che l'anno prossimo ci saranno molti più iscritti data la pubblicità che comunque abbiamo fatto in queste gare dove siamo andati. È scritta una pagina storica dell'automobilismo molisano ma anche italiano perché non era mai successo che una driver italiana vincesse una competizione europea. Quindi per te un onere e un onore ad oggi. Sì, indubbiamente. Naturalmente diciamo che il CETS è poco conosciuto. Spero che appunto tutti i piloti e tutte le persone molisane che vogliano intraprendere questa carriera si muovino perché è una bellissima cosa. Hai ottenuto anche i complimenti in generale però anche su Adeste per il tuo modo di guidare però possiamo dirle è una dote di famiglia. Eh oddio, spero di aver preso almeno un decimo di quello che ha papà. Però sì, effettivamente i complimenti sono stati tanti e le persone lì diciamo credono molto di più nelle ragazze e infatti cercano di spronarmi, hanno cercato anche di spronarmi e di riuscire a fare meglio. Ogni volta che gareggi vinci un titolo. Ricordiamo qualche anno fa il titolo italiano, adesso il campionato CETS. Il prossimo obiettivo, non so, quale potrebbe essere per te? Il prossimo obiettivo è trovare qualcuno che appunto come le persone che hanno creduto in me lì credano nelle mie potenzialità e mi aiutino con la realizzazione del mio sogno, cioè quello di fare qualche garetta di rally. Non dico di fare un campionato ma cercare di capire se sono capace anche lì. Adesso però ad ottobre mi sembra sarai anche a Praga per ricevere questa coppa del campionato CETS. Un'altra presentazione ufficiale, un onore per te rappresentare l'Italia. Sì, certo, saremo lì. Naturalmente credo vengano e mi accompagnino anche il delegato Savero Ricciardi e credo ci sia anche Valtero Liva che ringrazio e mi hanno aiutato anche loro in questa esperienza con mio padre. Quindi sì, andremo a Praga e visiteremo anche Praga.